Il derby delle conferme. L'atteso big match della nona giornata del campionato di eccellenza disputato in un viaggio fresina carico di entusiasmo sui spalti ma con un terreno di gioco in condizioni pietose, ha detto che il città di Sant'Agata può aspirare ad un piazzamento di prestigio e che il Rocca di Caprileone necessita di un ulteriore restyling sul prossimo mercato di dicembre se vorrà sperare nella salvezza. Non c'è stata storia come si evince dal 4-1 finale, in più le dichiarazioni di Mr. Palmer in sala stampa hanno acuovito l'evidente distacco che si vive tra il giovane tecnico brulese del Rocca e l'ambiente. Quella frase, la mia squadra non ha avuto carattere, può avere un significato ben preciso, i malumori sono evidenti e ipotizzare un cambio in panchina da cui a breve non è utopia. Davanti a determinate operazioni di mercato anche Santino Bellinvia potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di tornare sulla panchina del Rocca che nella scorsa stagione, anche se con ben altri giocatori, portò al secondo posto dei play-off. I vari Russo, Lucarelli, Biondo, Mento, Segreto e Danna non sono stati ben rimpiazzati e allo Stato il Rocca ha indovinato due soli acquisti, il portierone Sebastiano Paterniti e il centrocampista Gatto. A questo punto, alla riapertura delle liste a dicembre, il presidente Giacobbe e il direttore sportivo Germanotta, un po' fuori dalle operazioni estive, sono chiamati a riprendere in mano il bastone del comando. A Sant'Agata Militello invece si respira aria di festa. Oggi come un anno fa il team biancazzurro è primo, solo che allora era promozione, adesso eccellenza. Assorbita la sconfitta di Aciriale, il gruppo ha ripreso a correre a giocare a calcio, secondo il credo tattico di un vincente come Pasquale Ferrara, e dedicando la vittoria a Sciotto, vittima di un grave infortunio che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.